Grazie, innanzitutto è un piacere essere qui perché anche quando mi hanno detto guarda stiamo facendo un evento e si focalizzerà sull'idea di avere una cittadella innovativa ho detto questo è un sogno da bambino che uno può avere un posto in cui tutta l'innovazione può avvenire ed è sicuramente un posto in cui l'eterogenità del background delle persone che ne fanno parte è importantissimo. Comunque non sono qui per parlare di questo ma soprattutto come prima sono qua per parlare e indirizzare il mio discorso ai giovani. Quindi vedo molti giovani del passato, alcuni anche di oggi, però mi riferisco ovviamente a quelli che ci stanno ascoltando a casa. Il tema di oggi sì è la new age of discovery, perfetto, rinascimento. Io quando penso al rinascimento penso a Leonardo da Vinci perché è una figura che fin da piccolo e non lo nascondo mi sono sempre ispirato e mi sono sempre immaginato come lui una persona ribelle. A me piace immaginare Leonardo come una persona ribelle perché ha deciso di fare qualsiasi cosa avesse avuto voglia. Voleva fare l'artista ha fatto l'artista, voleva fare l'anatomista ha fatto l'anatomia, l'inventore e così via. E quindi già immaginatevi, io mi immagino così Leonardo, che una persona poteva andare da lui e gli dicesse guarda Leonardo questa cosa tu non puoi farla. Adesso io non sono avezzo della lingua di quel tempo, però sono sicuro che avrebbe trovato un metodo molto molto creativo per mandarlo a quel paese. Ed è quello che di solito cerco di fare anch'io, mi definisco un ribelle. Fin da quando mi ricordo qualsiasi persona mi avesse detto guarda Adi questa è proprio troppo ambiziosa per poterlo fare oppure è meglio se lasci stare eccetera. Non ho dato ascolto perché innanzitutto ho avuto molta fortuna devo dire nella vita perché sia per il background in generale dei miei genitori che hanno viaggiato tantissimo, facciano i ricercatori. Quindi solo questo, il fatto di poter viaggiare, confrontarmi con ragazzi di nazionalità diverse mi hanno fatto comprendere che non sto, non sono in competition, non sono in competizione, diciamo così se vogliamo chiamarla in questa maniera, con gli allunni ragazzi della mia classe, ma sono con quelli che sono negli Stati Uniti, in Germania, in Russia e così via. Già questo, avere una visione più grande del mondo mi ha fatto pensare va bene allora devo metterci di più. E ogni volta trovavo gente sempre migliore di me e mi dicevo va bene allora ancora di più e così via. Farò una diversificazione nel mio discorso tra il futuro, il presente e il passato. Per il futuro io dico va bene stiamo parlando di rinascimento eccetera eccetera, perfetto. Io personalmente voglio essere Leonardo da Vinci della mia epoca. Già mi immagino che siamo una specie interplanetaria perché sì vi assicuro dovete sicuramente considerare una cosa, un fattore molto importante, l'esponenzialità delle tecnologie. Immaginate solamente pochi anni fa, possiamo chiamarlo anche quasi cento se non sbaglio, abbiamo avuto i primi uomini che hanno creato, i fratelli Ward per esempio, hanno fatto il primo volo. 50 anni dopo eravamo già sulla Luna. Immaginate cosa sta succedendo piano piano, in maniera così esponenziale. Sicuramente vi dirò già che nel 2050 avremo già conquistato lo spazio cislunare, quindi lo spazio che sta intorno alla Luna, l'orbita e poi la possibilità di andare numerevoli volte sul suolo lunare, ma soprattutto ci saranno anche delle mission architecture per poter andare oltre, quindi poter andare anche su Marte. Questo perché? Perché alla fine siamo esploratori e per fortuna il settore spazio è un settore che è sempre alla front edge, quindi le maggiori tecnologie addirittura vengono da questo settore e tramite technology transfer vengono trasferite in altri come quella della medicina, il frittaggio dell'acqua e così via. Qualsiasi persona in questa sala adesso, ognuno di voi, all'interno proprio del pocket, all'interno del taschino, ha sicuramente una tecnologia spaziale, perché il GPS, la miniaturizzazione dei dispositivi e così via. Del presente. Il presente, ripeto, con tutte le cose di cui mi occupo adesso, il fatto che ho deciso di fare questo percorso. Immaginatevi, oltre alle cose che si è detto, per esempio, avrò la fortuna di essere tra le prime persone a poter mandare un'opera artistica nello spazio e sicuramente la prima a mandarla sulla luna tramite un progetto dell'ESA e un progetto di artisti che si chiama appunto la Moon Gallery. Quindi immaginatevi le prospettive che ci possono essere. E ora parlo un po' del passato, perché riferendomi sempre agli studenti che ci stanno seguendo. Il problema è uno, e io lo definisco soprattutto la società e il sistema di educazione. Fatto è che soprattutto in Italia, ma non solo, anche altrove, molte persone vi diranno cosa fare e cosa non fare nella vita. Possono iniziare anche dalle maestre, i maestri, i professori. Loro sono focalizzati su un settore perfetto, però non avendo esperienza in tutti gli altri settori, non hanno la capacità di potervi dire guarda te sei fatto per questo, sei fatto per quell'altro. Addirittura prima quando ero seduto qui c'era una mamma nel pubblico che mi stava parlando dicendo ok perché la figlia sapeva l'inglese, i maestri, i professori ho detto guarda tu dovresti fare il tourism settore, adesso non mi ricordo come si dice in italiano. Comunque, quindi l'importante è riuscire a uscire da questo grid che non so chi ha visto il film Matrix. Ecco, bisogna cercare di uscire da quelle metriche di misura obsolete, vecchie e sfortunatamente radicate nel nostro sistema. Quindi immaginatevi tutti questi ragazzi, io addirittura ho un fratellino, adesso ho 15 anni, chiamo fratellino per carità, mi impreccherebbe dietro se dice sì. Comunque è un ragazzo di 15 anni e lo vedo che ha tantissimi sogni, però non trova i mezzi. Come si trovano questi mezzi? Come diceva prima anche Marzia, adesso è molto più semplice, c'è email, ci sono diverse pagine eccetera, si possono contattare. Se voi mandaste un'email al shift scientist della James Webb Telescope per esempio, che doveva addirittura essere mandato nello spazio oggi, ma è stato rimandato al 24, adesso al 25, molto probabilmente vi risponderà. Quindi adesso la possibilità di essere connessi è altissima, cosa che io a mio tempo non lo avevo. Io per avere un'informazione andavo in biblioteca a trovarmela, ero tra i primi, ero gli adopter di un computer e appena ho visto che esisteva qualcosa come internet, io Yahoo per esempio, Yahoo Answers e Yahoo in generale, l'avevo visto per prima volta su una copertina di un libro e pensavo che quel libro avesse tutte le risposte. Poi ho scoperto che no, serve un piccolo dispositivo attaccato al computer che facesse un rumorino strano che mi collegasse alla rete. Questo e tantissimo altro. Ci sono molte cose che potrei parlare, non so se ho tempo per tutto, però oltre al fatto di poter delineare ok i vostri obiettivi e poter decidere cosa fa per il vostro futuro, è molto importante appunto fare esperienze. Più esperienze fate, più potrete capire cosa vi piace e cosa no. Perché dalla teoria alla pratica è tutt'altra cosa. E le esperienze sono quelle che vi danno emozioni. Quando vi danno emozioni sapete che il vostro motivo lo trovate e andrete avanti. Ma un'altra cosa molto molto importante è quella di ok, perfetto, sognare, però serve anche la pratica. Serve avere il know-how, serve avere le skills per poterle fare. Questo come si fa? Ci sono tantissimi modi. La prima cosa è iniziare con pratiche piccole, con cambiare i propri habits, le abitudini giornaliere, partire veramente dal piccolo. Uno dei problemi di molte persone quando decidono di avere un cambiamento nella propria vita è quello di partire veramente in grande. Dico ok, da domani io cambio. Quella persona non cambierà mai perché si cambia con piccoli passi. Iniziate a rifarvi il letto ogni giorno, iniziate a fare delle piccole task giornaliere, ma fatele bene e ogni volta diventate migliori. Se prima ci mettevate due minuti a fare una determinata task, perfetto, riuscirete sempre a fare la stessa cosa. Vi sembrerà un po' monotona, però vi assicuro che nel lungo andare diventerete i migliori in quella task. Un'altra cosa addirittura ancora forse più importante è di riuscire a gestire il proprio tempo. Adesso io ho 28 anni e quando parlo con le altre persone mi chiedono ok, come sei riuscito a fare tutte queste cose in questo periodo? Io rispondo guardate, in realtà è abbastanza normale, io non mi sono impegnato tantissimo. Fatto sta che tutti i giorni noi sprechiamo un'enormità di tempo. Ho avuto la fortuna di accorgermene molto presto e riuscire a marginare tutti quegli sprechi che ci potrebbero essere. Come si può fare questo? Perfetto, riuscire a avere determinate ore per qualsiasi cosa e una cosa per raggiungere anche la perfezione è quella di togliere tutte le cose che non vi sono utili e queste possono essere sia le relazioni sociali. Avete degli amici che non aggiungono niente a voi? Perfetto, toglieteli. Avete persone che possono essere tossiche per il vostro futuro? Assolutamente. Guardate, dovrete essere il centro della vostra vita e andare avanti. Ma considerando anche tutto questo, la cosa importante è anche il QI emotivo. L'importante è che aiutare anche gli altri è importantissimo. Io per esempio una cosa che mi ha aiutato tantissimo è riuscire anche a comprendere le altre persone, è il fatto di dedicare molto del mio tempo agli altri. Facendo questo mi rendo una persona molto più comprensiva rispetto alle tematiche che possono essere di tutti i giorni. Oh, sto finendo un po' il tempo. Va bene, chiudo quasi tutto. La cosa molto importante anche alla fine, per quanto riguarda il tema di sostenibilità e tutto quanto, io la definisco un po' così, un po' più romanzesca se vogliamo pensarla, quando riusciremo a capire che la bellezza di vedere un istante, nell'istante in cui nasce una stella, quella nebulosa, e la bellezza di vedere nascere un fiore e riusciamo a distinguere che queste due sono la stessa cosa, sono lo stesso livello di importanza nel nostro universo, allora lì capiremo cosa significa veramente la sostenibilità. Perché è ok che è tutto circolare, perfetto, ma la concezione di una società circolare arriva quando l'uomo non è più centered, ma è veramente parte di un tutt'uno. E questo credo che ho anche un po' sforato. Chiedo scusa e grazie per avermi ascoltato.